Saranno 1,4 milioni i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza pari circa 4,5 milioni di persone e quanto si legge nel decreto relativo all'introduzione della misura del reddito che verrà istituito a decorrere d'aprile 2019 formalizzato ad integrare i redditi familiari e il reinserimento nel mondo del lavoro all'obiettivo di aumentare l'occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze sociali. Al momento, secondo una statistica, sono circa 5 milioni le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta. Quasi il 47% dei beneficiari sarà al centro-nord, mentre il 53% al sud. Il decreto legge avrà la durata di 18 mesi e sarà aperto a tutti coloro che avranno i requisiti per accedere, tra cui il possesso della cittadinanza italiana o europea, o lungo soggiornanti a risiedere in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in via continuativa, isè inferiore a 9.360 euro annui, patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa di abitazione fino a 30.000 euro, infine patrimonio finanziario non superiore ai 6.000 euro che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili. Nuove norme varate dal governo, reddito di cittadinanza, che cosa ne pensa? Io non la conosco, quindi non sono in grado di esprimermi in maniera compiuta. Ho qualche prepensità, però è più una sensazione di appelle piuttosto che per conoscenza diretta. Quindi vediamo, aspettiamo gli esiti, quelli che dovranno chiederla. Speriamo che possa portare qualche frutto a quelli che ne hanno veramente bisogno. Per il reddito di cittadinanza lei è a favore o al contrario? A favore. A favore, a favore. A favore, a favore. Il reddito di cittadinanza secondo voi è un decreto giusto? Sì, sì, è giustissimo. No, è giusto, è giusto. Sono d'accordo per chi ha bisogno. Altro decreto, invece, varato dal governo giallo-verde riguarda la quota 100, investimento di 22 miliardi, che permetterà a tutti coloro che hanno i requisiti anagrafici, ovvero da 62 anni di età e 38 anni di contributi, senza nessuna penalizzazione, potranno accedere al pensionamento. Tra le novità è possibile il pensionamento anticipato, con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contribuzione, se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori percepiranno la pensione dopo tre mesi, mentre per le lavoratrici 58 anni, se dipendenti e 59 anni, se autonome, con almeno 35 anni di contributi, potranno andare in pensione con l'opzione donna. Io sono da quota 100. Pensate che sia un decreto proprio ottimale? Certo, è a favore delle persone che sono stanche di lavorare. È una vergogna fino adesso. 42-43 anni di lavoro, con 62-63 anni. Facciamo lavorare i giovani, chi ha 60 anni e passa deve andare in pensione a una certa età. Noi il nostro percorso l'abbiamo fatto, 42-43 anni di lavoro, basta. La pensione ce la devono andare quando siamo ragazzi, è giusto? E poi lavoriamo dopo.